Ciao ragazze Allora, novità di campagna 1 Come al solito questo video è in collaborazione con Sweet Pink Crazy e Vapagiuce e metto i canali qui uno qui e uno qui Allora, in copertina abbiamo il nuovo mascara Super Extended Extreme, appunto che ha questo scovolino molto particolare Io questo l'ho visto all'incontravon l'ho provato sulla mano colora molto però appunto non l'ho preso in dimostrazione quindi sulle ciglia non so che effetto fa però mi sembra buono poi questo appunto è lo scovolino e cosa ha di speciale questo mascara praticamente ha all'interno della soluzione del mascara delle micro delle micro ciglia diciamo delle fibre che praticamente si vanno ad appoggiare ad adagiare direttamente sulle nostre ciglia e quindi daranno un effetto extension quindi praticamente allungheranno le ciglia vedete fino all'87% più lunghe poi eccolo lì poi le offerte come al solito le farò più avanti avevo detto che facevo il video delle offerte di campagna 18 però poi ho subito un piccolo intervento al piede quindi sono rimasta bloccata nel letto e non avevo molta voglia di girare video però se volete che se volete che lo faccio mi lasciate un commento come volete e io lo faccio volentieri poi vediamo un po' faccio così perché mi sono già segnata le pagine però almeno così potete vedere un po' il catalogo allora questa è un'altra novità ed è un profumo si chiama Forever Today Tomorrow Always e Forever appunto c'è questo profumo che si chiama proprio così Today Tomorrow Always Forever questo nome è molto lungo avventura 95x50ml è un profumo da donna anche il design vedete è molto accattivante sembra quasi un Dior se non mi sbaglio non me ne intendo molto di queste macchine però sentiamo un po' molto raffinato molto direi abbastanza floreale come vedete l'Avon ha cambiato il talloncino adesso è fatto in questo modo sembra quasi un sole ogni tanto che vado avanti vi dico perché il catalogo è così grosso rispetto al solito semplicemente perché a Natale e quando c'è la festa della mamma che quindi corrisponde più o meno al primo catalogo il numero uno si fa l'edizione diciamo così speciale e quindi creano questo catalogo formato magazine formato giornale qui abbiamo solution e qui anche qui novità solution queste creme ne abbiamo gel rassodante seno 150 ml questo qui azzurro a 16,50 no a 16 scusate trattamento anti smaiature 24 ore 19,90 per 200 ml cellusculp trattamento anti cellulite 200 ml a 16 euro cellusculp 3x roll on anti cellulite a tripulazione 16 euro questa era una novità qua c'è scritto novità ma in realtà era una novità della campagna precedente poi questo siero diciamo che si chiama ecco laser shape pro trattamento anti cellulite effetto laser cosmetico 25 euro doppia formula gel e crema studiata per rinforzare la struttura cellulare e cutanea contribuendo a rassodare e levigare la pelle 150 euro oddio 150 euro 150 ml scusate ed è fatto così scusate se vedete la mano ancora sbocciata ma sto facendo due o tre video di fila e non sto lì a perdere tempo insomma così ne riesco a farne di più finché sono da solo in casa ne approfittiamo allora qui è new qui è new genix a 30 euro vedete solution ecco questo è interessante scusate che accendo di nuovo la luce forse così si vede meglio allora planet spa abbiamo questo prodotto elisir da bagno levigante vellutato alfiore di loto tailandese e champagne con champagne per un bagno di lusso una pelle levigata morbida ed elastica eccolo qui 250 ml a 7 euro e 50 poi questo qui detergente corpo levigante rilassante 750 a 200 ml poi abbiamo crema di lusso per il corpo alfiore di loto tailandese 200 ml 7 euro e 50 e poi maschera purificante per il viso ad azione intensiva 75 ml a 7 euro e 50 poi qui a pagina 71 abbiamo un'altra novità però questa volta della linea sempre si pone planet spa però con i sali minerali del mar morto allora trattamento perfezionatore viso purificante e sali minerali del mar morto e caviale lossuoso siero per il viso riduce l'aspetto delle piccole linee e delle rughe in una sola settimana con sali minerali del mar morto e strato di caviale e qui c'è scritto con caviale per una pelle dall'aspetto più giovane in soli 3 giorni gli asterischi riportano qui in basso e c'è scritto studio sul consumatore numero 0340 condotto su 119 partecipanti per 4 settimane poi sempre sali minerali del mar morto abbiamo questa maschera per viso 75 ml 7,50 euro questo poi burro nutriente per il corpo e sali minerali del mar morto a 7,50 euro 200 ml e poi un siero levigante per il corpo e sali minerali del mar morto 150 ml questa qui allora un'altra novità è questo spray per il corpo fra fiori di ciliegio eccolo qui io l'ho sentito sotto forma diciamo di di lozione ed era molto buona anche questa sicuramente lo spray sarà ancora più buono a parte l'unica che ho trovato più buona come lozione piuttosto che come spray è stata latte miele latte miele cioè io ce l'ho latte miele come spray invece Mimì ha preso la lozione ho trovato più buona e meno pesante diciamo la lozione rispetto allo spray e qui ha 3,50 euro poi a pagina 75 sempre linea Avon Naturals esfoliante per il corpo ad azione idratante con estratto di vaniglia e burro di karité 200 ml e potete scegliere tra fragola e vaniglia 4,95 euro poi vediamo un po' questa si novità ma nel senso che è uscito da poco non è uscito proprio in questa campagna Farway Exotics 15,95 questo anche questo ce l'ha fatto sentire l'Incontravon è molto 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 buono è molto più buono anche del Farway normale classico e questo è tutto da dire visto che è il mio profumo Avon preferito qui abbiamo le mini boccette da 4ml quindi 4ml sono proprio veramente veramente piccole però da borsetta oppure per un regalo carino sono una bella cosa allora tutte a 10 euro e vi dico le profumazioni allora Today formato mini ed è floreale no senza floreale poi Intimate Romantic Sparkling Tomorrow formato mini anche questa è una fragranza romantica e floreale poi Outspoken Intense by Fergie sempre 7ml sempre 10 euro e poi Outspoken by Fergie sempre 10 euro sempre 4ml qui potete strofinare il polso poi vediamo un po' così si vede meglio spero di riuscire a trovare un cavalletto che costi poco così è più comodo per me ma soprattutto voi riuscite a vedere meglio allora questo qui l'ho sentito da molte parti che è stato consigliato varie volte ed è il duo blush oro 24 carati 10 euro 95 a pagina 119 della linea 24 carati appunto anche questa è una novità e anche questo l'ho visto all'incontravon e parlo del e-liner liquido vediamo ecco e-liner liquido transforming della linea color trend 4 euro 95 per 3 ml allora praticamente questa è una cosa molto interessante nel senso che voi prendete questo applicatore l'applicatore dell'eyeliner che appunto è in colore voi poi lo immergete in uno dei vostri ombretti e quindi andate a creare un eyeliner del colore del vostro rossetto quindi se non riuscite a trovare che ne so un eyeliner del colore appunto powder room pink questa tonale anche se il nome è diverso ma nel senso di questo colore tipo barbie voi con questo potete andare a creare il look che volete in qualsiasi momento questa novità novità tra virgolette perché era uscita in campagna 18 ed è questo una cosa importante non lasciatevi tra virgolette fregare dal fatto che qui sembra enorme in realtà è questo vedete che meno di un indice adesso ve lo faccio rivedere ve l'avevo già fatto vedere nel video di campagna 18 che ho girato pochi minti fa comunque è questo non si vedrà è tipo un salmone chiaro direi che come ci siamo come definizione qua si intravede appena appena comunque molto carino questo è di Mimi come ho detto di là è molto settoso come 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 prodotto poi vi farò dire da lei come come si è trovata e poi a questo 4,95 abbiamo detto qui abbiamo un po' e new adesso andiamo con la caterbata di roba di bijou allora anello stargazer 9,90 poi abbiamo della stessa linea gli orecchini a 7,90 e la collana della stessa linea a 12,90 non vi sto leggendo le descrizioni se non viene un video lungo altri 20 minuti e questi sono indossati collana anello e orecchini poi ah no questo questo set tre pezzi orecchini collana e bracciale e sono placati in ottone 12,90 euro così sono indossati ecco la collana il bracciale e gli orecchini poi questo bracciale molto particolare bracciale rigido savanna 12,90 pietre bijou e ottone poi abbiamo gli orecchini savanna a 7,90 con le stesse caratteristiche e qui sono indossati qui gli orecchini e qui il bracciale poi questa collena questa collana molto lunga a 12,90 collana pave elephant e così ingrandita quindi a forma di elefante tutta sbrilluccosa poi questo set di orecchini a cerchio intercambiabili e si chiama rosemary a 7,90 euro quindi vedete questi penso che potrebbe prendere la mamma di Mimi perché gli piacciono molto i cerchi come orecchini allora quindi abbiamo questi cerchi con le perle e le perle possono essere intercambiate vedete ci sono di vari colori quindi penso che volendo potrete mettere anche non so una bianca una rosa e un ottone senza nessun problema mettete quelle che volete poi dei dei collana no aspettate ah collana siri 8,90 euro e a questi ciondoli e si possono applicare al massimo tre tre ciondoli ah no ecco ciondoli esclusi vedete mi sono sbagliata pendente ciondoli esclusi sì quindi praticamente solo eh fin qua questa è la collana siri e poi voi potete andare ad aggiungere questi ciondoli l'ananas a 3,90 oppure le ciliegie sempre a 3,90 poi abbiamo questa questa sciarpona che si chiama sciarpa cavita 6,90 euro questo sarebbe usato anche come una specie di stola poi eh pigiama safari bright canotta nera e eh diciamo pantaloni zebrati insomma e poi sempre della stessa linea reggiseno a 19,90 e slip a 10,90 poi leggings i primi leggings Avon in versione denim con effetto modellante quindi abbiamo questi questi leggings con effetto appunto jeans che però aiutano a rendere più snello l'aspetto del girovita e a dare una uniformità al corpo a 23,90 e qui vedete appunto delle proposte quindi anche semplicemente con scarpe da ginnastica e un top stanno bene oppure con una canottiera un po' più particolare con dei tacchi stanno sempre bene e si chiama Body Illusion questa linea ecco poi allora questi sandali per gambe meravigliose qui sempre in linea fitness diciamo allora aiutano a bruciare calorie a ogni passo aiuta a migliorare l'aspetto delle gambe aiutano la postura 33,95 disponibili in 3 misure eccole qui vedete che hanno la forma un po' particolare sono tipo le shape ups a versione di sandalo diciamo poi vediamo cosa c'è mi sa che non c'è più niente ah si ancora due cosine allora novità nel senso che hanno cambiato la 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 dimensione qui abbiamo i vari shampoo quelli che ci sono sempre stati della linea Avon Naturals però come quantità 750 ml a 3,95 euro albero del tè e menta olio di mandorla e avocado mango e ginger o fiore di ciliegio quindi 3,95 euro per uno shampoo da 750 ml direi che bisogna approfittarle cioè io allora io di questi ho provato cosa ho provato ho provato solo fiori di ciliegio molto profumato questo e poi bubble buff 1000 ml quindi da un litro e abbiamo mandarino e gelsomino che è quello nuovo magnolia rosa questo molto molto leggero poi fragola molto forte che sa tipo big bubble quindi anche lì lo dico sempre bisogna stare attenti a chi lo si regala bisogna stare attenti che è molto forte sensitive che è molto 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 ma molto delicato anche giglio bianco è molto delicato anche geranio e lavanda alla fine però appunto lavanda tra questi qui è leggermente più forte tra questi tre che ho detto e questo è quello nuovissimo gelsomino e mandarino sentiamo un po' anche qui vedete c'è il talloncino quindi finiamo non l'ho sentito bene non lo sento tanto a volte capita che questi talloncini non funzionano tantissimo lo sento poco poco però da quel che sento mi piace lo proverò prima o poi e niente poi ci sono questi bracciali bracciale sentiment fortuna pace desiderio e amore 6,90€ qui potete potete scegliere il bracciale che più vi piace ogni tanto l'Avon propone questo tipo di bracciali amore pace desiderio ogni volta sono fatti in modo diverso comunque sono sempre molto carini c'è stato un anno che so che Avon ha fatto praticamente piazza pulita proprio non è avanzato neanche uno di questi poi vi ricordo sempre che da campagna 1 campagna 8 si può si può ordinare anche dal catalogo cotto e mangiato che sarà una linea fatta esclusivamente per per Avon e clicca qui per accedere al video dove vi faccio vedere proprio tutti i singoli articoli vi dico le misure il prezzo vi dico proprio tutto così in caso la presentatrice magari non è riuscita a darvelo o che ne so non lo sapevate adesso lo sapete e basta ci vediamo al prossimo video ciao ciao